le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di lunedì 8 agosto ariete state recuperando una buona forma fisica e questo vi fa tornare anche il buon umore preparatevi ad una serata tutto pepe toro prima di poter archiviare definitivamente il periodo di grande sacrificio a cui vi ha costretto marte dovete affrontare ancora questa giornata complicata gemelli il soleone ha già roventato bene l'aria in questa torrida estate lo farà ancora di più nei prossimi giorni il contrasto della luna vi espone a qualche inconveniente cancro il sole vi ha lasciato da qualche giorno e voi già tornate ad impigrirvi invece dovete muovervi questo è il periodo ottimo per concludere un affare leone la giornata sarà molto positiva con la luna che vuole rendere la vostra vita più semplice e spensierata a beneficiarne saranno i rapporti sentimentali vergine inserata sentirete un po di stanchezza addosso che magari vi costringerà a rimandare anche un appuntamento galante o di lavoro bilancia finalmente tornata ad essere attivi e divertenti come impongono le vostre caratteristiche ottimi rapporti sociali e le contrattazioni di lavoro scorpione luna ancora molto bella quindi siete pieni di energia pronti a tuffarvi in una giornata produttiva in cui possono arrivare risultati concreti sagittario ancora la luna nel vostro segno per tutta la giornata sarete risoluti nell'affrontare alcuni problemi professionali partendo alla carica a testa bassa capricorno tornano alla mente alcuni episodi del passato che possono fare anche male ma che certamente hanno contribuito a farvi diventare quello che siete oggi cioè vincenti acquario la luna in posizione positiva è utile per superare le indecisioni che avete avuto recentemente e che vi hanno costretto a rallentare pesci il sole il leone per voi non è il massimo della vita ma certo non può compromettere i progetti a cui state lavorando che sono comunque destinati ad un grande successo e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus che ci stai insieme a tutti i nostri uomini che ci stai insieme a tutti i nostri uomini